La Chiesa è apostolica perché è fondata sugli apostoli e sulla loro predicazione e governata dai loro successori, i pastori legittimi, i quali, senza interruzione e alterazione, seguitano e trasmettono la dottrina e il potere. Primo, la Chiesa di Gesù Cristo deve essere apostolica. 1. Perché è fondata dagli apostoli e sulla loro predicazione. Gesù Cristo affidò agli apostoli la sua dottrina perché la custodissero, spiegassero, diffondessero tra tutti gli uomini e la tramandassero nel tempo. Affidò il sacrificio del Nuovo Testamento, quello della Croce, perché fosse perpetuo e rinnovato nella Santa Messa. Affidò i sacramenti perché fossero amministrati per la santificazione delle anime. Affidò il potere di governare la Chiesa perché tutti i fedeli potessero credere alla dottrina e osservare la legge di Cristo e avessero i mezzi soprannaturali necessari per onorare Dio e per santificare se stessi nei sacramenti. La Chiesa è fondata sul primato magisteriale degli apostoli nell'insegnamento, nel governo e nella carità. Per questo la Chiesa si chiama apostolica. 2. È governata dai loro successori. Gesù Cristo fondò la Chiesa per tutti gli uomini di tutti i tempi, quindi il primato della dottrina, nel governo e nella carità, non doveva cessare con la morte di San Pietro e degli altri apostoli, ma trasmettersi ai successori di Pietro, i sommi pontifici, e degli apostoli, i vescovi, in tutti i tempi, senza interruzione, senza alterazione, fino alla fine dei secoli, finché vi saranno uomini da salvare. 2. La Chiesa cattolica di Roma è apostolica. È fondata su Pietro e sugli apostoli, fecondata dal sangue di Pietro e Paolo, martirizzati e sepolti nella città eterna. A Pietro, vescovo di Roma e pontifici di tutta la Chiesa, nel primato magisteriale della fede e del governo della carità, successe San Lino, il secondo anello della gloriosa catena che unisce San Pietro e Paolo VI, gloriosamente regnante, attraverso la serie ininterrotta dei pontifici di Roma. Agli altri apostoli, successori vescovi, indipendenza del vescovo di Roma, successore di San Pietro e vicario di Cristo. 3. La Chiesa cattolica di Roma è l'unica che discende direttamente da San Pietro, con una successione ininterrotta. 3. Nessuna delle Chiese separate è apostolica. Non possono essere apostolico le sette protestanti. Sorte dopo la rivolta di Lutero nel secolo XVI. Se la Chiesa di Roma era apostolica, separandosi i protestanti perdette la nota della apostolicità. Se non era apostolica, non lo sono nemmeno le Chiese protestanti, che sorsero 1500 anni dopo gli Apostoli. Lo stesso si deve dire delle Chiese separate d'Oriente. La Chiesa nestoriana risale alla ribellione di Nestorio e alla sua condanna nel 431. Quella monofista è di poco posteriore, risale all'eretico Eutiche. La Chiesa russa risale a Pietro il Grande. Quella greca al 1833. Quella bulgara, rumena e jugoslava sono posteriori. L'unica Chiesa scismatica che potrebbe vantare una parvenza di apostolicità è quella di Costantinopoli, la cui sede episcopale è assai antica, ma prima di Fozio era soggetta al primato di Roma. E anche se fosse restata apostolica, avrebbe cessato di esserlo alla caduta di Costantinopoli, nel 1453 sotto i turchi, i quali da quel giorno assegnarono la sede patriarcale al migliore offerente.